Russia e Unione Europea ha un passo dalla crisi diplomatica per il caso Navalny. Rottura totale con l'Europa se arriveranno sanzioni. Minaccia Mosca. In diretta il corrispondente Sergio Peini. Sì, a dirlo è stato il ministro degli esseri russo Sergei Lavrov che ha avvertito Bruxelles. Siamo pronti a tutto, ha detto attenti a mettere a rischio la nostra economia. In caso di nuove sanzioni romperemo le relazioni. Non vogliamo isolarci ma se vuoi la pace allora preparati alla guerra. Da Mosca parole sconcertanti e non condivisibili ha commentato il portavoce della cancelliera tedesca Merkel. Rapporti quindi sempre più tesi mentre oggi i diplomatici europei sono tornati ad assistere all'udienza di un secondo processo a carico di Alexei Navalny. Quello per diffamazione nei confronti di un veterano della seconda guerra mondiale che aveva sostenuto il referendum costituzionale voluto da Putin. L'oppositore incarcerato ha attaccato più volte la giudice accusandola di non conoscere la legge. Stavolta in aula non c'era la moglie Giulia tornata in Germania per una visita privata. Ma l'ultima dichiarazione d'amore del marito ispirerà però un flash mob organizzato per domenica sera nei cortili di tutta la Russia. L'amore è più forte della paura. Lo slogan, le torce dei telefonini verranno accese per esprimere un messaggio di sostegno al dissidente. Adesso andiamo negli Stati Uniti.